Anche in tempi di coronavirus continuano ad arrivare navi cariche di grano estero nel porto di Pozzallo. Gli agenti del Nucleo Operativo per la Sicurezza Agroalimentare del Corpo Forestale Regionale che hanno operato in sinergia con i colleghi dell'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi Agroalimentari sono entrati in azione proprio nel porto di Pozzallo dove sono giunte tre navi provenienti da Turchia, Albania e Malta. A bordo un carico complessivo di grano duro di oltre 11.000 tonnellate destinato ai mulini del Siracusano e del Ragusano. Sul posto anche gli ispettori fitosanitari dell'Assessorato Agricoltura. Sul grano di provenienza francese, spagnola e ungherese sono stati effettuati prelievi e campioni subito trasmessi ai laboratori del Ministero delle Politiche Agricole. Le analisi chimico-fisiche, i cui esiti si conosceranno entro pochi giorni, mirano soprattutto ad accertare l'assenza di residui di pesticidi. Impensabile specie in un momento come questo, sottolinea il governatore Musumeci, che si possano minimamente allargare le maglie della rete di controllo su tutto ciò che entra in Sicilia per finire sulle nostre tavole. Rigore che finora ha dato i risultati sperati e che resterà un principio saldo a beneficio della salute dei siciliani. Poi anche il problema economico sul quale è intervenuto l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrao, immettere nuova quantità di grano dall'estero in un periodo come questo, in cui il prezzo era di 30 centesimi, non potrà che danneggiare l'economia locale. Occorre tenere gli occhi aperti su tutta la filiera, dallo sbarco del grano fino ad arrivare alla macina, alla trasformazione e all'immissione al consumo, pone sempre l'accento sulla necessità del consumo dei prodotti locali. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo, abbiamo una crisi economica gravissima sulle nostre spalle. I nostri piccoli e grandi agricoltori della Sicilia, spiega la Campo, stanno soffrendo per la situazione di emergenza coronavirus e per il prezzo a cui sono costretti oggi più di prima a svendere il proprio prodotto.